La nostra critica è dura perché hanno presentato progetti per 10 miliardi di euro e davvero nessuno se ne è accorto perché non esiste una priorità in quello svuotamento di cassetti. Hanno lasciato la struttura, la tecnostruttura, lavorare senza alcun tipo di indirizzo politico. Neanche i gruppi di maggioranza sono riusciti a comunicare una sola idea pur linkando, trasmettendo 10 miliardi di euro di progetti. Noi facciamo il contrario, vogliamo essere opposizione costruttiva, diamo delle indicazioni importanti dalla trasversalità alle grandi infrastrutture, la digitalizzazione, la telemedicina, la medicina del territorio alle questioni legate al sisma, alla carta di Pescara, cioè 5-6 asset o assi in cui poter lavorare per mettere in campo concertando le azioni ben precise per rilanciare la nostra regione, sapendo bene che queste risorse sono risorse che prendiamo a prestito anche rispetto al futuro dei nostri figli. Occorre un grande e nuovo patto generazionale per investire, per rilanciare l'economia e investire sul futuro. Voi però vi ponete in un modo collaborativo, cioè dite alla regione, lavoriamo insieme a questo progetto. Assolutamente sì, la nostra idea è, partendo da una critica che non facciamo soltanto noi, le stesse parti sociali hanno dovuto sottolineare all'unanimità tutte e sedici le sigle che questo lavoro portato avanti dalla giunta regionale è stato un lavoro in solitaria senza alcun tipo di concertazione. Rilanciamo dicendo, lavoriamo tutti insieme, la nostra idea è lavorare su questi sei punti strategici e diamo un contributo di discussione e di confronto a un governo regionale che vediamo al palo su tutti i temi della programmazione. Quando bisogna dire, anche come in questo caso, diversi sì, ma evidentemente qualche no. Ogni volta rispetto alla programmazione si impauriscono, ma in questo modo lasciano la regione al palo. Grazie a tutti.